www.mesmerism.info 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 Giulia, ma che facciamo? Che fai tu? Mi stengono vicino a te! Ma non fa lo stupido, ma che te vuoi far? Prende, vatti a nascondere, a lei ci penso io. Su, muovete. Cammina! No, no, no. Non sparate! Non sparate, vi prego! Dov'è il vostro comandante? Basisti! Parlez-vous francais? Pourquoi? Votre comandante, s'il vous plaît! Gunther, fuir de leitner! Giuseppe, che farà? Marie, io me ne vado alla montagna, sta attendo le fille. Ecco, sta piena di todesca. Ciao, Marie. Figlie mie! Mamma! Mamma, papà! Se la riesco nella montagna!